Sembrava che tutta questa storia sarebbe finita. Ma è tutt'altro che finita. Che cosa ha intenzione di fare? Che cosa ha intenzione di fare? Clay, tu non sai cosa succedeva in quella foto. Né cosa sia successo dopo. Ci siamo dentro tutti, ragazzi. Lei lo sa cosa succede in questa scuola? Questa è una prova, Jessica. La verità non sistema sempre le cose. Ci dovrai abituare. Perché continuerà. Non c'è più niente che abbia senso, a parte ottenere giustizia per nostra figlia. Ormai non posso più contare su nessuno. Ho capito che devo pensarci io. No, nessuno le renderà giustizia. No! 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 No!